Portare ogni giorno la qualità nei piatti delle mense scolastiche, tenendo come punti fermi la filiera corta e la stagionalità dei prodotti. Nel comune di Bagno a Ripoli il servizio di rifezione scolastica è affidato alla società di ristorazione collettiva SIAF. Servizi integrati area fiorentina, storica azienda a maggioranza pubblica, con sede proprio nel territorio ripolese. La qualità è una parola che può trovare declinazione in tanti modi, però poi alla fine nella concretezza di un piatto bisogna che venga composta da tanti ingredienti e quindi sicuramente uno di questi è il legame con il territorio, quindi l'utilizzo principalmente di derrate a filiera corta che intreccia con il territorio una relazione che dà riscontro poi anche a quello che viene messo sul piatto. A rendere concreti gli obiettivi dell'azienda ci pensano ogni giorno operatrici e operatori delle mense scolastiche. Qualità però, e questa la dico per ultima ma non lo è, è anche il fatto che il pasto non sia semplicemente un momento in cui diamo da mangiare, ma che riesca a veicolare un valore educativo, educando così i nostri ragazzi al cibo e quindi alla vita. La realizzazione di menù di alta qualità con prodotti genuini, anche un legame con il territorio sfruttando le tante eccellenze che sul nostro territorio abbiamo nel campo agricolo, per cui dagli ortaggi fino all'olio extravergine d'oliva che viene dai nostri territori, addirittura il vincitore dell'evento del primolio è l'olio d'oliva che viene servito nelle tavole. Grazie 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 Grazie